Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura alla cronaca. Aggressione in pieno centro ad Arezzo questo pomeriggio vicino alla stazione ferroviaria in zona del giardino dei Porcinai. A quanto raccontano alcuni testimoni, un gruppo di ragazzini e un uomo hanno avuto un violento diverbio, finito con alcune ferite al volto dell'adulto, un magrebino di una cinquantina d'anni. Stando ad una prima ricostruzione che ora è al vaglio delle forze dell'ordine, durante il diverbio l'uomo avrebbe estratto una lama, un oggetto molto simile ad un macete, e l'avrebbe mostrata al gruppo di ragazzini di circa 6 o 7 minorenni. I ragazzini avrebbero raccontato di essere spaventati e a un certo punto uno di loro ha lanciato una pietra che ha colpito al volto l'adulto. L'uomo è stato portato all'ospedale San Donato di Arezzo. E ancora cronaca, incidente sul lavoro oggi accaduto nel comune di Sestino, in località Piego, ai confini con le Marche. Sono state attivate le procedure per infortunio sul lavoro. A rimanere ferito un uomo di 59 anni che si trovava in quel momento all'interno di un'azienda. L'uomo ha rimediato un serio trauma cranico a seguito della caduta, forse dovuta ad uno svenimento, secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine. Ed è stato necessario il suo trasferimento con l'elisoccorso all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, in codice rosso. Presenti sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, oltre agli operatori della medicina legale, della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'uomo non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. E un forte boato e poi le fiamme, una bombola di gas che alimentava una stufetta, sarebbe esplosa questa mattina in un annesso agricolo che si trova alle porte di Bibbiena. L'esplosione è stata udita nelle zone circostanti, destando non poca preoccupazione. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Bibbiena, ma fortunatamente non ci sarebbero stati feriti o persone intossicate. E sono stati presentati dalla Camera di Commercio i dati sull'economia a retina. Vediamo. Nel 2022 ovviamente registriamo dati positivi in tutti i settori, nel turismo, in un'economia domestica che comunque ha tenuto e attirato. Ovviamente il 2023, che ha avuto un inizio molto positivo, ovviamente sta dando segnali verso la conclusione dell'anno un po' più negativi. Naturalmente in tutto questo incidono le tensioni geopolitiche, incidono ovviamente i costi delle materie prime, incide molto il costo del danaro. Uno scenario incerto per le tensioni geopolitiche da un lato e le condizioni finanziarie sfavorevoli per le famiglie ed imprese dall'altro. Anche in provincia di Arezzo si registrano così gli stessi segnali di rallentamento evidenziati per l'economia mondiale. Alla Borsa Merci un momento di riflessione sui dati dell'economia a retina che arrivano dalle Camera di Commercio. Dunque continua a crescere l'agricoltura, ormai sopra i livelli pre-pandemia, e il settore dei servizi. Segno negativo per l'industria, brusco rallentamento poi anche per le costruzioni, complice la riduzione degli incentivi. Resta invece forte il dato dell'export provinciale che rappresenta il 18,8% del totale regionale per un valore che supera gli 11 miliardi. Siamo la prima provincia in Italia addirittura per incidenza di export sul valore aggiunto, e questo export è caratterizzato dalle nostre specializzazioni produttive oro e moda. In particolar modo si segnala un raddoppio della gioielleria e dell'oreficeria dal periodo pandemico ad oggi, e invece una flessione per quanto riguarda i metalli preziosi, complice sicuramente un andamento anche del prezzo dell'oro abbastanza incerto. Testimoniano come questo è un distretto di grande rilievo che ha saputo anche gestirsi nella flessibilità e nel dinamismo di alcuni mercati che sono anche cambiati nel frattempo e quindi hanno visto il presidio intelligente di questo settore maturo, organizzato e strutturato per posizionarsi. Sulla base dei dati relativi all'indagine istata sulle forze lavoro e in provincia di Arezzo, nel 2022 sono presenti circa 149 mila occupati, 3.500 in più rispetto al 2021 e 6.000 al 2020. Segnaliamo un aumento del tasso quindi di occupazione, una diminuzione del tasso di disoccupazione che è inferiore sia al dato regionale che a quello nazionale e anche un incremento del tasso di attività. La giornata dell'economia è stata anche l'occasione per fare il punto sul rapporto Arezzo 2030 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'agenda ONU. Cerca di descrivere la situazione della provincia di Arezzo in termini di sostenibilità raccogliendo indicatore a livello locale sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Ci sono come tutti gli anni degli obiettivi in cui ci sono delle luci, ci sono dei grossi pregi e qualcuno in cui invece ancora siamo un po' indietro. Le luci maggiori sono sul benessere generale della provincia. I dati un po' meno brillanti a livello di provincia di Arezzo riguardano un po' tutto quello che è l'attenzione alla sostenibilità ambientale. Cambiamo decisamente argomento. Primo incontro stamani in Valtiverina sulla diga di Montedoglio e sul suo futuro. Vediamo. I territori dell'Umbria e della Toscana si interrogano sul futuro del lago di Montedoglio indicato proprio con questa accezione lago appunto e non diga perché uno dei possibili utilizzi e sviluppi futuri è proprio legato al turismo. E' un momento in cui i comuni della Valtiverina Toscana e Umbria anche per l'attività della fondazione si sono messi a sedere per tutta una serie di aspetti compreso la candidatura importante di Valtiverina capitale italiana della cultura del 2026. Credo che attorno a questo si possa costruire, possano costruire alcune cose. Costruita negli anni 80 a fini rigui e successivamente idropotabili, la diga è stata analizzata sotto diversi aspetti, dal rischio sismico ai motivi del crollo nel 2010. Io ho usato un termine, è stato fatto sostanzialmente un tagliando alla diga, un bel tagliando perché sono passati dal momento della sua costruzione tanti anni, sono cambiate tante cose, soprattutto dal punto di vista meteorologico e quindi gli organi di scarico sono stati opportunamente adeguati al netto del difetto strutturale che ha provocato il crollo, ma comunque sono stati adeguati al nuovo modo di piovere. La valutazione è stata fatta per i possibili terremoti che possono insistere sul territorio nell'alta Valtiverina che ragionalmente noi ci dobbiamo aspettare perché sappiamo che l'area è sismicamente attiva, abbiamo un terremoto recente, quello del 1917, quindi non possiamo non aspettarci terremoti forti. Quando abbiamo un forte terremoto abbiamo certamente lo scuodimento che è il fenomeno che tutti meglio conoscono, ma se il terremoto è sufficientemente forte localmente possiamo avere una rottura della superficie topografica, si chiama fagliazione in superficie. I risultati dello studio hanno dimostrato che non c'è una faglia in grado di produrre questo tipo di pericolosità di sotto della diga. Oggi Montedoglio è indubbiamente essenziale per quei territori che diversamente sarebbero in sofferenza rispetto al fabbisogno idrico, ma per la Valtiverina può diventare un'occasione di promozione del territorio. Provincia di Arezzo e Perugia, dico anche Perugia perché Perugia andrà in crisi sicuramente fra poco e pertanto senza diga di Montedoglio fra dieci anni non c'è più acqua da bere e mi sento adesso dire però di aiutare i sindaci, in questo momento c'è la responsabilità come fondazione di aiutare i sindaci a conoscere e applicare le leggi. Questi sono i due ambiti in cui vogliamo muoverci con decisione. E sono oltre 600 mila i toscani che hanno effettuato la vaccinazione anti-influenzale, 103 mila nell'ultima settimana. La campagna prosegue con il supporto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che stanno effettuando le vaccinazioni negli ambulatori e tra gli ospiti delle residenze per anziani. Un modo per tutelare la salute individuale e collettiva, spiega la regione toscana. La possibilità di vaccinarsi è offerta alle persone con almeno 60 anni di età e che rientrano nell'elenco dei soggetti a cui il ministero ha raccomandato la vaccinazione, come nel caso delle persone di qualsiasi età ad elevata fragilità, così come anziani, cargiver di persone fragili, operatori sanitari e sociosanitari e donne in gravidanza. L'elenco completo delle categorie è disponibile sul sito ufficiale della regione toscana. E prosegue anche la campagna di vaccinazione contro il covid-19, stesa nelle ultime settimane a tutte le persone con più di 18 anni. Ne hanno approfittato fino ad ora 168 mila persone. La Toscana, per numeri assoluti, è terza tra le regioni in Italia sul portale del Ministero della Salute. E tornano le lezioni di educazione civica. Ad Arezzo il relatore dell'appuntamento al liceo Redi è stato Stefano Tenti. Il servizio. Se nessuno delle persone che ritengono di valere si interessa della cosa pubblica, cioè non decide di sacrificare una parte del proprio tempo e delle proprie energie per il bene di tutti, per l'amministrazione della cosa pubblica, ovviamente qualcuno lo deve fare. Se quelli meglio non lo fanno, lo faranno con lì peggio. E questo qualche esempio c'è. Vediamo se nella prossima epoca storica, cioè quella dei ragazzi che oggi mi ascolteranno, qualcuno di loro, dei migliori tra loro, abbia voglia di interessarsi invece di diventare consigliere comunale, consigliere provinciale, regionale, parlamentare. Comunque di dedicare parte di sé agli altri. La passione per la ras pubblica è nata tanti anni fa, una passione negli ultimi anni messa a disposizione dei più giovani e non solo. L'associazione Tra Tevere e Darno, preseduta da Stefano Tenti, sta infatti portando avanti nella scuola a retine un viaggio dell'educazione civica per comprenderne la sua importanza nella formazione di cittadini consapevoli ed attivi. L'ultimo appuntamento al liceo Francesco Redi lo ha visto come relatore in un incontro dal titolo dal boom economico a Tangentopoli. Perché sappiano cosa è accaduto ai loro genitori e ai loro nonni. Forse non si può definire storia perché sono avvenimenti accaduti in epoche troppo recenti. Però raccontare una cosa, uno spaccato, un'epoca che ha fatto l'Italia, come altre epoche, ma molto recente, che loro non hanno vissuto data la loro età, ma di cui sentono continuamente parlare alla tv e comunque in tanti tipi di conversazioni, ci è sembrata una cosa opportuna. Il liceo scientifico, dove siamo in questo momento, ha ritenuto di condividere questa opinione e infatti eccoci qua. Vi ricordo che questa sera alle ore 21 su Arezzo TV andrà in onda storia e contenuti della nostra Costituzione, l'incontro tenuto dalla professoressa Maria Pia Nannini. E adesso andiamo in Casentino perché prosegue il lavoro della Fondazione Riconoscersi di Arezzo nella promozione del progetto di vita individuale come strumento privilegiato per concretizzare l'autonomia delle persone con disabilità. In questo caso ad essere coinvolta è la comunità casentinese che presso la sede della Fondazione Baracchia Bibbiena venerdì 1 dicembre, a partire dalle 14, ospiterà il convegno organizzato insieme alle fondazioni Giovanni Paolo II e riconoscersi dal titolo Progetto di vita, un nuovo approccio per i diritti delle persone con disabilità. Iniziativa aperta al pubblico e realizzata col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in collaborazione con la ASL Toscana Sud-Est e l'Unione dei Comuni Montani del Casentino. E adesso andiamo in Val di Chiana. Si accorciano le distanze tra il comune di Castiglion Fiorentino e l'isola di Lampedusa dopo il conferimento del premio San Michele d'Oro alla comunità di Lampedusa e Linosa in segno di riconoscenza e di ammirazione per l'accoglienza dimostrata in tutti questi anni nell'affrontare l'emergenza umanitaria è stato sottoscritto un patto di amicizia tra la città di Castiglion Fiorentino e il comune di Lampedusa e Linosa, proprio con le motivazioni che sono le seguenti per la sperimentazione di forme di valorizzazione integrata, così si legge nella delibera, negli ambiti dell'inclusione della crescita sociale. A distanza di un giorno l'uno dall'altro, lunedì a Lampedusa e ieri pomeriggio a Castiglion Fiorentino, i due comuni hanno deliberato questo patto dal sapore sociale sicuramente, ma dai risvolti economici e culturali. E sono state presentate le attività 2023-2024 del Museo e le nomine del nuovo organico del Museo Oro d'Autore. Vediamo. Da Giorgio Vasari ai laboratori per i più piccoli, dai contest alle nomine del nuovo organico. Il Museo Oro d'Autore di Arezzo, dopo aver ottenuto il prestigioso riconoscimento di Museo di Rilevanza Regionale dalla Regione Toscana, si presenta in una veste totalmente rinnovata con numerose attività in programma. Che a questo punto funziona come un vero network culturale, nel senso non è semplicemente un museo, ma si attiva per fare e svolgere regolarmente delle attività all'interno dei suoi spazi. In particolare sono iniziative rivolte ai più piccoli e anche perché l'idea è di portare sempre di più i giovani aretini dentro il museo, perché questa è una struttura non solo dedicata ai turisti, ma parla della storia della propria città e di questa cultura che intorno a loro ha costruito e costruirà momenti di gloria. Spazio anche alle celebrazioni del 450esimo anno dalla morte di Giorgio Vasari, previste per il 2024. A 15 artisti e designer per lo più, aretini ma anche scultori internazionali, sarà chiesto un progetto per un gioiello o un ornamento ispirato e dedicato al primo storico dell'arte italiano. Una personalità eccezionale che ha lasciato delle opere clamorose ad Arezzo, anche dedicate all'oreficeria. Si ricorda la famosa scena di Ester e Assuero, Perché? Perché lì c'è tutta la somma delle orificerie che aveva imparato. Lui le rappresenta in tutta la loro essenza, in tutta la loro intimità. Quindi questa sarà fonte di ispirazione sicuramente agli artisti. All'interno delle celebrazioni dedicate a Vasari è anche un contest rivolto alle scuole. Un'iniziativa sicuramente importante perché sarà un'iniziativa che coinvolgerà anche i ragazzi fino a 12 anni, cioè insegnare ai ragazzi già alla manualità del gioiello e, come ho sentito prima, anche alla possibilità di riciclare dei materiali per creare il gioiello. Tante infine le attività dedicate ai più piccoli, come il laboratorio di Natale Crea il tuo gioiello d'autore è una vincente caccia al tesoro. È un regalo che faremo a tutti i bambini che verranno con le famiglie a visitare il museo d'autore e che li porterà a scoprire alcuni gioielli particolari presenti all'interno della collezione fino ad arrivare ad un vero e proprio tesoro presente dentro al nostro museo. In palio, per chi riuscirà a completare questa caccia al tesoro, ci sarà un piccolo regalo. E adesso parliamo della giostra del Saracino perché è stato presentato il calendario 2024 della giostra del Saracino con gli scatti social e il ricavato andrà a casa Tevenin. Il servizio. La giostra del Saracino raccontata in 12 scatti di appassionati che ogni anno seguono il corteo a caccia di emozioni. Un anno con la giostra è il titolo del calendario 2024 del Saracino realizzato grazie alle foto condivise dagli utenti di Instagram con l'omonimo hashtag. Di scatti fatti da appassionati, da semplici turisti piuttosto che da amici che hanno voluto dare uno spaccato diverso e hanno voluto partecipare a un anno con la giostra che era un contest che avevamo pubblicato su Instagram e quindi sono tutte foto pubblicate in quel social appunto. Sono state raccolte, selezionate e è stato prodotto appunto questo calendario che secondo me è molto bello proprio per quello che tu dicevi, cioè il fatto che sono punti di vista leggermente diversi rispetto a quelli che siamo abituati a vedere dai fotografi professionisti. I proventi saranno destinati interamente a casa Tevenin per aiutare donne e bambini in difficoltà. Trecento le copie che domenica per l'intera giornata potranno essere acquistate nell'istituto di via Sasso Verde. Casa Tevenin è una fondazione secolare che ha sempre comunque bisogno di avere nuovi input e nuovi aiuti, quindi questo calendario che ci dà la giostra del Saracino che è veramente molto bello, spero che farà una buona riuscita e quindi sarà un evento di solidarietà importante. Il calendario è stato realizzato dall'Ufficio Politiche Culturali e Turistiche impiegando e parte delle risorse arrivate dal Ministero della Cultura. Sabato 2 dicembre dalle 9.15 alle 13 infine ci sarà un annullo filatelico nella sede di Signa Rezzi in via Bicchieraia realizzato da Simone Cheli che celebra la lancia d'oro dedicata al centenario dell'Arezzo Calcio. Le poste si regheranno, manderanno un loro ufficiale all'interno della sede di Signa e ci sarà appunto l'annullo filatelico con delle cartoline che sono state confezionate appunto a tal proposito. E adesso passiamo alla pagina sportiva, apriamo con l'Arezzo Calcio con il nuovo acquisto a Maranto. Cristiano Sebastiani, 24 anni e da oggi un calciatore dell'Arezzo. L'attaccante romano ha firmato il contratto che lo lega alla società Maranto che si è aggregato alla squadra. Le valutazioni di mercato in vista del mercato di gennaio sono quelle che ho già spiegato nelle settimane scorse, ha detto il direttore generale Paolo Giovannini. Ma questa opportunità si è offerta adesso grazie allo svincolo del calciatore dal Trastevere e con la disponibilità di spazi in lista dovuta agli infortuni di Polvani e Coccia. L'abbiamo appunto colta. Cristiano è un ragazzo che conosciamo bene e che è anche un grande tifoso dell'Arezzo in virtù dei suoi legami familiari con il presidente e arriva con entusiasmo e voglia di fare bene. Lo accogliamo quindi con la concreta speranza che possa portare fin da subito un valore aggiunto alla nostra squadra, conclude Giovannini. Cristiano Sebastiani indosserà la maglia numero 29 ed è già a disposizione di mister indiani nella gara contro la Lucchese. Adesso parliamo di Taekwondo, un altro successo per l'atleta Aretina Beatrice Coradeschi, campionessa europea di Taekwondo in Austria. la sentiamo al microfono di Grazia Settimelli. Beatrice, un altro successo, questa volta campionessa europea? Sì, sono tornata da poco dai campionati europei di Innsbruck 2023, la sedicesima edizione e mi sono classificata a primo posto nella specialità del freestyle nella categoria under 17. Senti, ce lo siamo detti più volte, la tua è quasi una danza, ovviamente Taekwondo sono forme, come ricorda anche proprio la dicitura, forme e freestyle, però è una forma comunque di danza. Sì, diciamo il mio settore comprende le forme e il freestyle, le forme sono delle azioni di braccia e gambe, movimento senza la musica, mentre il freestyle, che è la categoria in cui ho vinto, comprende una sorta di movimenti, di salti, calci, acrobazie, una coreografia basata su una musica. Ci siamo visti più volte nell'arco della tua carriera sportiva, quindi si va avanti, ovviamente si cresce, ti lasci qualcosa indietro, ti penti di qualcosa o vuoi comunque proseguire in questa strada? Il mio percorso sportivo ci sono stati, come ogni atleta penso, alti e bassi, però non mi pento di nulla perché comunque grazie a ogni momento che è successo, grazie a una medaglia vinta ma anche a una medaglia persa, sono chi sono, sono dove sono, quindi no, non mi pento di nulla, spero di continuare così nel futuro, andando sempre a migliorare, sempre in meglio. Adesso so che devi affrontare un'altra gara, in questo caso campionati italiani. Sì, venerdì partirò per Napoli, si svolgeranno infatti il primo e il due e il tre dicembre i campionati italiani forme freestyle, giù a Napoli e spero di tornare con altrettanti successi insomma. Ma come si conciliano tutti questi impegni perché ovviamente tu sei ancora una studentessa? È un po' fatica, non è facile però se vuoi fare entrambi trovi il tempo e trovi il modo. Una piccola, non dico pecca, ma insomma un qualcosa che magari potrebbe arricchire il tuo medagliere potrebbero essere le Olimpiadi, però questa in particolare ovviamente il freestyle e le forme non è una disciplina olimpica, sperate che lo diventi. Sì, ancora non è una disciplina olimpica, è entrata solamente del taekwondo, solamente il settore del combattimento. Noi come federazione, anche il nostro presidente, comunque spingiamo verso un inserimento di questa categoria delle forme del freestyle e speriamo che un giorno possano entrare a far parte tra le discipline olimpiche e di poter partecipare. Come ti sembra che questo sport, anche tra le ragazze, ma anche tra i ragazzi più piccoli di te, stia così prendendo campo? Io ricordo le prime interviste che facevamo, insomma non era ancora uno sport molto diffuso. Allora, io noto in palestra sempre più bambini, ma anche bambine non c'è differenzazione, che si divertono e continuano insomma a venire in palestra, sempre più numerosi ecco. Fa piacere vedere crescere le generazioni, essendo partita anch'io da una di quelle bambine, vedere che man mano che vado avanti continuano ad affluire bambini, sempre dai più piccoli ai più grandi, comunque sì, è piacevole. E adesso parliamo di kickboxing. Daniel Valea del team Iachini è campione italiano di kickboxing. Il traguardo è stato festeggiato in occasione della 26esima edizione del Gran Galà degli Sport di Combattimento, le stelle del ring, che ospitato dal Palasport Estra Mario Dagata, ha proposto un'incalzante serie di incontri tra alcuni dei migliori atleti del panorama internazionale e che ha trovato il proprio cuore nell'assegnazione di un titolo intercontinentale, di due titoli europei e di un titolo nazionale. E adesso andiamo a parlare della polisportiva savinese che ha partecipato alla campagna contro la violenza sulle donne. Vediamo come. Dalle ragazze ai ragazzi, senza distinzione, tutti uniti contro la violenza sulle donne. L'onda emotiva dopo l'uccisione di Giulia Cecchettin, che purtroppo non è stata l'ultima donna uccisa in Italia, ha scosso le coscienze più di altri casi. Forse perché questo atroce femminicidio si è consumato nell'ambito di una relazione tra due giovanissimi. E allora anche il mondo dello sport retino ha voluto dire no a questa carneficina. Queste le foto pubblicate sui profili social della polisportiva savinese, dedita alla disciplina sportiva della pallavolo e della ginnastica ritmica. Decine di ragazze e ragazzi che fanno parte delle squadre di pallavolo o della ginnastica ritmica si sono uniti nel dire un grande no. Alle atlete della ritmica è stato poi chiesto di eseguire una figura con qualcosa di rosso addosso e le ragazze hanno risposto in massa. Anche questa è una forma di sensibilizzazione, forse la più importante da coltivare per gli uomini e le donne del domani. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.